Il nome di Fedez torna al centro delle cronache rosa dopo quelle che il caso Jovino aveva tinto di fosco. A sei giorni dalla notizia dell'accordo transattivo raggiunto tra il rapper e il personal trainer, che avrebbe rinunciato a eventuali azioni penali nei confronti del rapper dietro un presunto a sei giorni dalla notizia dell'accordo transattivo raggiunto tra il rapper e il personal trainer, che avrebbe rinunciato a eventuali azioni penali nei confronti del rapper dietro. Scisso definitivamente il connubio che per anni lo ha legato al cognome Ferragni. Fedez ha lasciato che lo smartphone di qualcuno lo riprendesse mano nella mano con una giovane ragazza durante il suo scisso. Definitivamente il connubio che per anni lo ha legato al cognome Ferragni. Fedez ha lasciato che lo smartphone di qualcuno lo riprendesse mano nella mano con una giovane ragazza durante il suo scisso. Nulla di strano se non fosse che la clip sull'apparente novità sentimentale del rapper arrivi proprio a ridosso della notizia dell'accordo con Jovino, diffusa a pochi giorni dalle dichiarazioni con cui nulla di strano se non fosse che la clip sull'apparente novità sentimentale del rapper Dunque, è che Fedez non tenesse particolarmente alla segretezza della frequentazione con la giovane ragazza, dal momento che, nota sempre Oggiano, il GIP, la sensazione. Dunque, è che Fedez non tenesse particolarmente alla segretezza della frequentazione con la giovane ragazza, dal momento che, Il dubbio è che Fedez abbia così inteso spostare l'attenzione dalla cronaca giudiziaria che lo vede coinvolto nel caso Jovino, oggi, infatti, nonostante l'accordo transattivo tra i due. Il dubbio è che Fedez abbia così inteso spostare l'attenzione dalla cronaca giudiziaria che lo vede coinvolto nel caso Jovino, oggi, infatti, nonostante l'accordo transattivo tra i due. Il dubbio è che Fedez abbia così inteso spostare l'attenzione dalla cronaca giudiziaria che lo vede coinvolto nel caso. La storia Instagram di Selvaggia Lucarelli arriva a ridosso del video del flirt di Fedez, quando c'è un problema reputazionale la soluzione, per il solito, è sposatre l'attenzione e finire. La storia Instagram di Selvaggia Lucarelli arriva a ridosso del video ed è qui che Andrè è invece. Scrive l'autrice del libro Il vaso di